bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi wow quante novità abbiamo nel video di oggi anche in attese perché sono state scoperte nelle ultime ore di ieri per quello che riguarda i prossimi giorni di fortnite è stata scoperta una nuova skin dedicata al set di aquaman ma vedremo anche le informazioni ufficiali prese dal codice sorgente di samsung per accedere all'iscrizione della galaxy cup e molto molto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto se la trovo di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi ed ecco qua ragazzi le informazioni per l'iscrizione al torneo galaxy si iscrive il 20 luglio oggi ragazzi numero uno visita la pagina la page off il modulo delle offerte della pagina dal tuo smartphone io non non ho uno smartphone samsung quindi voi saprete di cosa stiamo parlando tap the redeem now cta per aprire epic games se tu non sei registrato con il tuo samsung account registra accedi fai login oppure crea un account torna indietro per leggere di più sulla pagina epic games nel modulo tap quindi premi di nuovo redeem now quindi riscuoti cta per aprire epic games 4 se adobe sparks post non è installato scaricalo dall'app del galaxy store 5 segui le istruzioni per riscuo per riscattare il free trial quindi adobe spark post in versione gratuita per un mese credo numero 6 attenzione che quando adobe spark post scade ve lo fa pagare 19 e 98 quindi è meglio che dopo che avete fatto la galaxy se non lo volete pagare lo disinstallate e terminate il free trial purtroppo in italiano non esiste questa descrizione io spero ci abbiate capito qualcosa voi possessori di samsung non perdete comunque la pagina instagram che durante il corso della giornata usciranno delle novità e non dimenticherò di pubblicarvele siamo già passati al secondo argomento di oggi perché guardando sotto la cartella atlantis che è quella dove sono catalogate tutte le cose dedicate ad atlantide e ad aquaman è presente questa stringa female medium lady atlantis head pensavamo che fosse una gigantesca testa di pietra per dire che facesse parte del come dire dell'abbellimento della location in realtà questa riga di codice è sotto la cartella delle skin e quindi è molto probabile che oltre alla skin black manta che è il grande antagonista di aquaman per chi segue la serie la skin potrebbe essere mera chi è mera ve lo leggo subito mera era una regina sottomarina di una dimensione aliena la dimensione acqua in una delle sue prime avventure incontrò acquaman il re di atlantide della dimensione terrestre e innamoratasi di lui decise di sposarlo e rimanere nella sua dimensione ebbero un figlio arthur junior che venne però ucciso da black manta mortale nemico del marito questo causò una crisi emotiva in mera e a causa del conseguente esaurimento nervoso decise di lasciare suo marito rimasta prigioniera nella dimensione infernale chiamata netherworld venne salvata da acquaman e in seguito i due si riavvicinarono tornando insieme dopo l'esilio di acquaman dovuto agli eventi di the obsidian age in cui la justice league of america salvò atlantide da alcuni stregoni mera è rimasta a regnare su atlantide in seguito alla distruzione di atlantide da parte dello spettro mera è divenuta la leader di un piccolo gruppo di ribelli a protezione di alcuni profughi atlanti dei tanti dei non so come si dica e ha collaborato con arthur joseph curry il nuovo acquaman e con l'abitante degli abissi nel quale mera ha riconosciuto il suo ex marito abbiamo un concept di mera ce l'abbiamo nella porca miseria nella copertina di oggi non è ovviamente un'immagine ufficiale della skin ma è un concept come avete sicuramente visto fatto benissimo vi rinvito a guardarlo perché è tanta tanta roba vorrei farvelo vedere vediamo se riesco a farvelo vedere al volo perché merita veramente tantissimo come concept e devo dire che ha assolutamente senso tutta la storyline che viene annunciata e che viene detta nella descrizione di mera eccolo qua intanto ragazzi il nostro concept quello che appunto vi ho messo nella copertina una skin veramente bellissima che ci sta benissimo con acquaman vi ricordo anche che c'è tutta la location atlantis e mentre voi state vedendo questa immagine statica nella mappa io voglio in realtà farvi vedere uno spezzone dove ci mostra un giocatore sotto il livello dell'acqua che cosa succede per qualche strano motivo oggi non funziona neanche qua oggi non funziona niente non si è capito bene perché mannaggia mannaggia axiuder che registra le cose che non dovrebbe registrare dove cavolo siamo ma dove cavolo siamo finiti sono io che guardo le cose vabbè oggi va così ragazzi va così comunque vi ricordo che sotto le rovine in alto a sinistra quindi questa porzione di mappa è proprio quella in alto a sinistra si creerà un enorme nuova location che ci accompagnerà fino alla fine della season se avete notato ovviamente ci sono già le tre rocce e altri piccoli dettagli che sono usciti con l'abbassamento del livello dell'acqua questo appunto ci ha fatto capire che ne vedremo davvero delle belle per quanto riguarda tutta la storyline di acquaman tra l'altro ragazzi abbiamo anche un altro argomento interessante nel trailer ufficiale dove ci viene mostrato sia acquaman club che black manta se si fanno degli dei filtri con i programmi di grafica si può vedere che sul background è proprio presente tutta la location atlantis atlantide ovviamente abbiamo dei castelli abbiamo delle strutture ancora non definite e abbiamo delle altre degli altri edifici quindi la location non sarà assolutamente piccola e appena ne uscirà un po di più ve la farò vedere correttamente andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché domani invece ci sarà la pace 13.30 almeno così è quanto detto nelle ultime ore di oggi dovrebbe arrivare la notizia ufficiale e arriveranno finalmente i veicoli una bella ventata di ossigeno dopo tutti questi giorni di attesa due settimane quasi tre dove non c'è stato assolutamente nessun update significativo abbiamo già delle statistiche sui quattro veicoli principali abbiamo il camion che avrà 100 ad esempio come capacità di serbatoio avrà addirittura un boost che gli darà un 10 come potenza sappiamo anche che la salute per esempio invece della prevalent che è la macchina che vedete a destra sarà di 1000 la capacità del carburante sempre 100 ma ad esempio il boost sarà di 5 modifiche anche per gli altri veicoli abbiamo il pick up che avrà 1200 di salute un boost a 9 quindi molto veloce ma veloce anche ragazzi la whiplash 0 e 5 di boost ma solo 800 di salute ragazzi vi ricordo ovviamente che per riuscire ad andare in giro nella mappa con i veicoli dovremo raggiungere le pompe di benzina e effettivamente effettuare un rifornimento sappiamo anche che ci sono le tanniche di benzina che sono state aggiunte come oggetti nelle sottocartelle dei veicoli che potrebbero essere utilizzate per recuperare del carburante e portarselo in giro nella mappa quindi come uno slot degli oggetti occupato e quindi appunto fare benzina per poter continuare ad andare in giro sono davvero tanto in hype per l'arrivo dei veicoli perché cambieranno veramente parecchio lo stile di gioco e prima di salutarvi molto rapidamente una curiosità avete presente le lucciole quelle che raccogliete nel barattolo beh ragazzi sono proprio queste forse non ci avete mai fatto caso ma nei file di gioco questo è proprio l'immagine dedicata quindi una piccola curiosità per chi volesse sapere come cavolo erano fatte quelle cose che catturiamo insomma ragazzi io tutte le news anche di oggi ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao